Torrese e Spoltori in campo per obiettivi diversi, giallorossi per continuare la rincorsa verso le zone di vertice di azulgrana per uscire dai bassi fondi della classifica. A partire meglio sono i giallorossi, 120 secondi, corner di Mastrilli, torsione di Di Loreto che di testa manda sul fondo, giro di lancette e ci prova gentile. Il portiere ospite Palena ferma la sfera con il petto e poi rimedia sugli avanti giallorossi. I padroni di casa trovano la rete del vantaggio al tredicesimo. Mastrilli caparbi a soffiare la sfera all'avversario, mette al centro per la corrente Antichi che batte Palena per l'1-0. Nuovamente Mastrilli ci prova dai 25 metri presa a terra del portierone azulgrana. Lo spoltore pian piano alza il baricentro ma la mezz'ora e la torrese che vuole farsi male da sola con Bratelli il retropassaggio ma ci pensa Abate a togliere le castagne dal fuoco. Sul finale di primo tempo tre occasioni per lo spoltore tutte dalla distanza con Belli, Planamente e Tiberi ma tutte e tre le conclusioni non inquadrano lo specchio della porta. E con le immagini montate da Flavio Forcellese passiamo alla ripresa. Spoltore subito in avanti che trova il pari al quinto minuto sventagliata di Belli, nettamente il migliore per gli ospiti. Per Tiberi che è a domestica e conclude in porta ma su quest'azione i padroni di casa recriminano per un presunto fallo su un difensore che riceve una manata in faccia. La torrese si riorganizza e mister Cristofa rimanda in campo Santi Rocco ed è proprio lui il neo entrato a mettere in rete in mischia sugli sviluppi di calcio d'angolo per il 2 a 1. Risponde lo spoltore con Ricci il suo colpo di testa però si spegne sopra la traversa. Azione corale della torrese con la conclusione di Festa che termina sul fondo. E la gara si chiude al 46esimo minuto con Festa che raccoglie un traversone proveniente dalla sinistra. La conclusione Beffa-Palena per il 3 a 1. Mister Cristofali, la torrese porta a casa una vittoria sofferta però nella finale di gara siete riusciti ad avere la meglio su questo spoltore che era venuto qui a tentare il tutto per tutto. Sì abbiamo avuto un ottimo approccio la prima mezz'ora secondo me abbiamo fatto molto bene abbiamo trovato il gol del vantaggio poi abbiamo avuto altre occasioni magari per poter raddoppiare. Poi poco alla volta lo spoltore ha preso fiducia è cresciuta anche se non ci ha impensierito nel secondo tempo sono rientrati ancora più aggressivi noi probabilmente potevamo fare qualcosina di meglio abbiamo preso il pareggio su un episodio un po' particolare. Il nostro difensore nel rincorrere è caduto dice di aver preso una comitata però insomma è una fase di gioco che io sinceramente non ho visto e da lì sinceramente abbiamo avuto 6-7 minuti di smarrimento purtroppo veniamo da una settimana dove non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Noi lo volevamo oggi a tutti i costi alla fine siamo stati bravi e fortunati a trovare l'episodio che ha sbloccato la gara ma lo spoltore non ha assolutamente demeritato. Dopo il 2-1 comunque ci hanno messo in difficoltà ci hanno attaccato poi abbiamo trovato su una ripartenza il gol che ha chiuso la partita proprio allo scadere però ripeto da qui alla fine saranno tutte partite come quelle di oggi e questa vittoria ci deve dare morale ci deve dare entusiasmo per questo finale di stagione. Di Camillo, il coltore perde qui con la Torrese eravate partiti non bene poi siete riusciti a rientrare in gara avete trovato il gol dell'1-1 poi purtroppo un nuovo errore vi ha condannati nuovamente. Sì hai detto bene non siamo partiti bene anche perché oggi abbiamo cambiato un po' il sistema di gioco anche in base all'assenza purtroppo abbiamo tanta assenza quindi per cercare di mettere ogni giocatore nelle migliori condizioni di giocare in mezzo al campo eravamo partiti con un altro assetto ci abbiamo messo un po' per capire determinate cose poi penso che comunque dopo i primi 20 minuti dopo la Torrese c'era stata superiore abbiamo preso le misure nel secondo tempo eravamo riusciti anche a pareggiare poi penso che la partita era una partita equilibrata dove si avviava forse perso il pari dove una delle due che riusciva a trovare la zampata portava a casa la vittoria è stata così per loro anche su un'azione diciamo un po' fortunata che Santirocco da per terra ha fatto gol facciamo un grande mia colpa nostro perché partite del genere perderle fa male.